Gastone Moschin, un illustre attore italiano, è nato l'8 giugno 1929 a San Giovanni Lupatotto, in Italia. Ha iniziato la sua carriera di attore negli anni 50, apparendo inizialmente in piccoli ruoli in film e produzioni teatrali italiane. Tuttavia, sono stati il suo talento e la sua dedizione a spingerlo rapidamente alla ribalta nel settore. Le performance di Moschin sono state caratterizzate dalla loro profondità, intensità e risonanza emotiva, guadagnando gli ampi consensi da parte del pubblico e della critica. Nonostante il suo successo professionale, Moschin ha dovuto affrontare una serie di tragedie personali nel corso della sua vita. Nei suoi primi anni, ha sperimentato la perdita dei familiari più stretti, che lo ha colpito profondamente e ha lasciato un segno indelebile nella sua psiche. Queste prime perdite hanno instillato in lui un profondo senso di empatia e resilienza, qualità che avrebbero poi influenzato le sue performance sullo schermo e sul palco. Mentre la carriera di Moschin prosperava, la tragedia colpì di nuovo quando dovette affrontare la morte prematura di un amato fratello. La perdita lo ha lasciato alle prese con il dolore e un senso di profondo dolore, che ha incanalato nel suo lavoro, infondendo le sue performance con una cruda autenticità emotiva che ha risuonato profondamente con il pubblico. Nonostante le sue difficoltà personali, Moschin ha continuato a perseguire la sua passione per la recitazione con incrollabile dedizione e impegno. La sua carriera ha raggiunto nuovi traguardi con performance straordinarie in film iconici come Il conformista e Il padrino parte secondo, dove ha messo in mostra il suo straordinario talento e la sua versatilità come attore. La tragedia che ha colpito la vita dell'attore Gastone Moschin con la scomparsa di sua moglie è stato un capitolo straziante che lo ha lasciato distrutto e alla deriva in un mare di dolore. La loro è stata una storia d'amore durata decenni, piena di sogni condivisi, ricordi cari e devozione incrollabile. Ma il destino aveva altri piani e quando la sua amata moglie lasciò questo mondo, lasciò nel cuore di Moschin un vuoto che non avrebbe mai potuto essere riempito. Il loro viaggio insieme è iniziato nel fiore della giovinezza, quando due anime hanno trovato conforto e compagnia l'uno nell'abbraccio dell'altro. Il loro amore era un faro di luce in un mondo spesso avvolto nell'oscurità, fornendo conforto e forza sia nei momenti di gioia che di dolore. Insieme, hanno superato le tempeste della vita con grazia e resilienza, e il loro legame è diventato più forte ogni giorno che passa. Ma con il passare degli anni, l'inevitabile scorrere del tempo cominciò a farsi sentire e la malattia si insinuò nelle loro vite come un ladro silenzioso nella notte. La moglie di Moschin combatteva valorosamente contro le devastazioni della malattia, il suo spirito incrollabile anche di fronte alle avversità. Eppure, nonostante i loro migliori sforzi, la mano crudele del destino alla fine l'ha reclamata, lasciando Moschin alle prese con la devastante perdita della sua anima gemella e confidente. In seguito alla sua scomparsa, Moschin fu consumata da un profondo senso di perdita e disperazione. Il mondo intorno a lui sembrava perdere colore e i ritmi della vita, un tempo familiari, diventavano una cacofonia di vuoto e desiderio. Ogni angolo della loro casa condivisa riecheggiava di ricordi di tempi più felici, un doloroso ricordo di tutto ciò che era ormai perduto. I giorni si trasformarono in settimane e le settimane in mesi, ma il dolore della sua assenza non si attenuò mai. Moschin si ritrovò alla deriva in un mare di dolore, lottando per dare un senso a un mondo che non aveva più senso senza di lei al suo fianco. La sua assenza gettava un'ombra su ogni aspetto della sua vita, facendolo sentire perso e solo in un mondo che era diventato improvvisamente freddo e sconosciuto. Eppure, anche nel profondo della sua disperazione, Moschin trovò momenti di conforto nei ricordi che avevano condiviso. Si aggrappava agli ecchi delle sue risate, al calore del suo tocco e all'amore che li aveva sostenuti nei momenti più bui. In quei fugaci momenti, trovò un barlume di speranza in mezzo all'oscurità, un promemoria che il suo spirito sarebbe sempre stato con lui, guidandolo attraverso la lunga e solitaria strada da percorrere. Col passare del tempo, Moschin iniziò lentamente a ritrovare il suo equilibrio, traendo forza dall'amore che avevano condiviso e dai ricordi che sarebbero rimasti per sempre impressi nel suo cuore. Sebbene il dolore per la sua perdita non si sarebbe mai placato del tutto, decise di onorare la sua memoria vivendo ogni giorno con uno scopo e un significato, facendo tesoro del prezioso dono della vita che un tempo avevano condiviso insieme. Negli anni successivi la moglie di Moschin divenne un angelo custode, vegliando su di lui dall'alto dei cieli. Il suo spirito viveva nella dolce brezza che gli accarezzava la guancia e nelle stelle che brillavano nel cielo notturno, un costante promemoria che l'amore non conosce limiti e che il loro legame sarebbe durato per l'eternità. Sebbene il loro tempo insieme fosse giunto al termine, Moschin trovò conforto nella consapevolezza che il loro amore non sarebbe mai morto. Sarebbe sopravvissuto nei cuori di tutti coloro che erano stati toccati dalla loro storia, ispirando gli altri ad apprezzare ogni momento e a tenersi stretti a coloro che hanno a cuore. E mentre guardava le stelle, sussurrò una silenziosa preghiera di gratitudine per l'amore che avevano condiviso e per i ricordi che lo avrebbero sostenuto finché non si fossero riuniti ancora una volta. Nel corso della sua illustre carriera, Moschin è rimasto un pilastro di forza e resilienza, utilizzando le proprie esperienze di tragedia e perdita per plasmare le sue interpretazioni con una profondità e un'autenticità che lo hanno reso uno dei migliori attori italiani. La sua capacità di incanalare le sue lotte personali nel suo lavoro ha parlato del suo straordinario talento e della sua incrollabile dedizione al suo mestiere, lasciando un'eredità duratura che continua a ispirare il pubblico fino ad oggi. Nei suoi ultimi anni, il contributo di Moschin al cinema e al teatro italiano è stato riconosciuto con numerosi premi e riconoscimenti, consolidando il suo status di figura amata e venerata nel settore. Nonostante le difficoltà che ha sopportato, la sua passione per la recitazione non ha mai vacillato, a testimonianza del suo spirito indomabile e della sua eredità duratura nel mondo dello spettacolo.